E' il mestiere più antico del mondo perché a Cirene hanno trovato una discarica datata qualche migliaio di anni avanti Cristo. Era una discarica di vasi, era anche chiamata la civiltà di vasi perché non c'è altro che quei vasi rotti lì che mettevano in quella discarica. Dentro uno di quei vasi di quella discarica c'era un tremaglio come questo qui. Questo qui che ha tre maglie, tre pareti, due pareti e una rete in mezzo. Il tremaglio è datato migliaia di anni avanti Cristo. Io uso lo stesso tremaglio con magari materiale diverso che usavano allora. Cosa si prova a stare in mare? Si sta bene perché si sta liberi, si sta soli, non si vede questo mondo che non ci piace più tanto. Di notte in mare? Non ci sono orari nel nostro mestiere. Si va di notte, si va di giorno, sempre all'alba e uno ci fa anche l'abitudine. Oggi ha pescato cosa? Ho pescato poco oggi perché è un periodo in cui il mare è un po' impoverito dei pesci. Non sappiamo perché, potrebbe essere il clima, qualche variazione di clima, l'acqua, l'inquinamento dell'acqua. E quindi la pesca sta perdendo il suo prodotto. I pesci ce ne sono pochi e se ne pesca pochi. Grazie mille. E adesso mi aiuti a tornare là.